17 punti, 6 punti da fare e 2 partite rimaste E ciao a tutti ragazzi, sono Dugente, ben trovati qui sul mio canale, siamo tornati finalmente Me l'avete chiesto in 300 milioni di persone, il ritorno del Raw 2 Division 1 signori Per chi lo sa, per chi non lo sa, per chi è nuovo, per chi è vecchio, io il Raw 2 Division 1 l'avevo praticamente finito Perché in Division 1 ci ero arrivato e vi ho portato il video su Youtube, sul canale E vi avevo detto che vi avrei portato partite decisive per quanto riguarda la vittoria della Division 1 Quindi del titolo della Division 1 E quindi signori ci siamo qui, 17 punti, 2 partite rimaste, 6 punti da fare Difficile signori ma non impossibile Prima di iniziare signori volevo aggregarmi al cordoglio per le vittime in Bruxelles Per quanto possa valere ragazzi, lo faccio anche perché mi ricordo che un ragazzo sotto nei commenti Se non mi sbaglio Master Gaming si chiamava, non ricordo bene Mi diceva che mi seguiva dal Belgio Io spero che mi segui ancora, spero che sia tutto a posto da te e i tuoi familiari Non so se eri in Belgio di passaggio, ci vivevi proprio Ma signori eccoci qui, speriamo di almeno vincerla la prima partita in modo da avere un po' più di suspense Perché perdere già la prima partita sarebbe uno smacco Questa è la formazione che stavo usando ragazzi, l'ibrida che vi portai tanto tempo fa Questa Division 1 l'ho usata totalmente con questa squadra qui Siamo benissimo per quanto riguarda la forma fisica Quindi io direi subito ragazzi di non perdere altro tempo In caso non riuscissimo a vincere la prima partita Vi porto la prima partita della nuova Division 1 Quindi andiamoci subito a trovare il nostro primo avversario ragazzi Carichi, lasciate un bel mi piace prima dell'inizio della partita per il supporto E ci vediamo subito al nostro primo avversario Eccolo signori, il nostro primo avversario con la maglia del Borussia Dortmund nera Bellissima, vediamo subito la sua squadra Una Barclays, molto 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 interessante Con Pedro, Remy e Wolcott lì davanti Dobbiamo stare molto molto attenti Perché Wolcott contro Rodriguez non è che sia uno scontro impari per quanto riguarda la velocità Centrocampo con Cazorla, Schweinsteiger messo trequartista non mi ispira tantissimo Però ragazzi, non bisogna far calcoli Dobbiamo assolutamente vincere, vincere, vincere Cerchiamo di partarci subito in vantaggio E quindi vamos Attenzione a Ribery Si ferma, serve a Bume Young Subito il tocco per Menter Sempre tutta l'altra parte per Quadrado Lo stop di Quadrado Si accentra Quadrado con la finta Quadrado con la mano L'ha presa con la mano, arbitro infame Per te solo le lame Si scherza raga Ribery Ancora sulla sinistra Sta facendo ballare il terzino Può ancora Ribery che si ferma Ribery Ancora Ribery Prova il gioco di gambe Ribery Palla dentro Per Rodriguez La finta Rodriguez Check centrale Remy Prova una finta Lo capiamo però No Perde palla Ribery Palla dentro Chesney Miracoloso Errore di Ribery Mi piace sta partita Baines Traversa Clamorosa Non ci credo Se prendevo gol così Giuro che mi incazzavo proprio male Occhio Remy in area Noi gol Uh Chesney Miracolo di Chesney Poi sbaglia il passaggio Baines Attenzione Ancora Schweinsteiger Chesney Adesso è brutto Adesso siamo in una fase un po' brutta Dalla partita Prima avevamo noi il gioco Adesso c'era lui Ancora la palla fuori Schweinsteiger Schweinsteiger Bruno Perez Ancora Schweinsteiger A culo Schweinsteiger No raga no Prende il gol così No Gliel'avevo presa Dai non è assurdo Gliel'avevo presa Socrates recupera la palla Palla dentro per Mertens Posizione regolare dentro Che buccio di culo Faccio Obameyang Non ci credo raga Non ci credo Obameyang Fa correre Ribery Sulla sinistra Ribery 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 Palla dentro Mertens Siamo ancora vivi Grande azione di Ribery Sulla sinistra 1-1 Dai ragazzi Crediamoci Mancano 10-20 minuti di gioco Mertens Mertens Dentro Obameyang Messo giù Calcio di punizione Peccato Ero passato 83esimo Gundogan Dentro Obameyang Obameyang Rigore Calcio di rigore Signori Abbiamo fatto bene A battere veloce Mamma mia Quanta responsabilità Rodriguez Rodriguez contro check Rodriguez 2-1 Lo ribaltiamo All'85esimo Mamma mia Che sudata Signori 85esimo Adesso in difensiva Mamma mia ragazzi Come l'abbiamo ribaltata Attenzione perché non è finita Remy Manolas Manolas di testa No Via No non ci credo raga Non ci credo Non ci credo Oddio Non ci credo Spazza sta palle Fischia L'arbitro fischia L'abbiamo vinta Mamma mia Signori Quanta fatica Complimenti al mio avversario Comunque mi sono divertito Tantissimo 20 punti Signori Manca una vittoria E vinciamo il titolo Della divisione 1 Io veramente Se lo vinco Così ragazzi Giuro che non lo so Voglio almeno mille mi piace Andiamoci a fare Quest'ultima partita Dell'episodio E la partita decisiva Per vincere il titolo Eccolo signori Fiducia alla maglia Del Borussia Dortmund Una serie A Mista A Ligan Con in attacco Di Maria Tevez Di Bala Che fa male Fa male Poi Pastore Matuidi Marchiscio Kurzawa David Luiz Miranda Bruno Perez Andanovic Bellissima squadra Abbiamo un'ibrida Entrambi Dobbiamo vincere Signori Ci siamo Partiamo E vamos Tevez si prova Cesny Ti prego Cesny Resisti Un'altra partita Non mi fa Arcappellate Poi Ribery A difendere Rodriguez Fa partire Gundogan Che non è il massimo In velocità Però serve centralmente Aubameyang Aubameyang Resisti Fallo Calcio di punizione Mertens Ci prova Mertens E di quant'è uscita Di pochissimo Quadrado Con la finta Quadrado Dentro Per Mertens Mertens Sovrapposizione Bellissima Di Bruno Perez Bruno Perez Cross Steso Aubameyang Andanovic Che ha preso Che ha preso Andanovic Calcio d'angolo No Ho visto Tardine In gol Lannia al centro Palla dentro La palla sfiora L'incrocio dei palli E va sul fondo Ci siamo ragazzi Con calma Ci prova addirittura Tevez Mamma mia Ma che punizione Ha tirato Raga Quadrado Quadrado Palla dentro Aubameyang Si gira Aubameyang E in aria Palla dentro Mertens Mertens Gol 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 Signori Mamma mia Che tocchettino Di Mertens 1-0 Al 36esimo Con calma Ragazzi Con calma Mertens Palla dentro Per Aubameyang Che non ci arriva Poi ancora Mertens La stop Naigolan Andanovic Mamma mia Come stiamo difendendo bene Rodriguez Apre tutto Ribery Ribery Dentro Mertens E' più veloce Mertens Si accentra Mertens Andanovic No però Ti prego FIFA Fammi raddoppiare Ti prego Ragazzi La stiamo giocando meglio noi Però occhio Perché il raddoppio Era un passo Ma FIFA Non ce l'ha fatto fare Quindi occhio Naigolan La recupera Naigolan Lo scarico Con calma Ribery Centralmente Ancora Naigolan Con la pinta Naigolan Dentro Aubameyang Ancora dentro Quadrato Gol 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 Subito 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 Qua in quadrato Non ci credo Raga Non ci credo Non ci credo Non avrei mai immaginato Di vincerle tutte e due Non ci credo Attenzione Manolas Stiamo difendendo In una maniera assurda Occhio Carlitos Mamma mia Di quanto è uscita Cinquantunesimo Arbitro Fischia Non ci credo Raga Non ci credo Pastore Occhio a Pastore Che è un buon tiro Sbaglia il nostro avversario E ripartiamo in contropiede Ripartiamo in contropiede Mertens Apre tutto Benissimo Quadrato 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 Ancora con la finta Ancora quadrato Quadrato Con le skill Quadrato Entra Quadrato Entra Ancora quadrato Si ferma Quadrato Quadrato Ancora la finta Quadrato Ancora il numero Quadrato Si Raga Non avete idea Di quanto sto fomentato Se entrava questo Io spaccavo qualcosa Ve lo giuro Quadrato Passa su David Luiz Dai che sei più veloce Quadrato Quadrato Sulla suola Quadrato E in aria Quadrato ancora Attenzione Obama Young Obama Young Il tocco Mertens Entra Ti prego Non ci credo Raga Non ci credo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Rodriguez Palla dentro 9 gol Antitesta Attenzione Però perché Non è mai finita Ma non la No 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 raga No no Non così No raga No 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 Sto male No sto Non è giusto Basta Sono due gol Che prendo così Occhia di Maria Di Maria Rodriguez Bravissimo Rodriguez Due volte Vedete quanti rimpalli A favore hanno Raga Guardate quanti rimpalli A favore hanno Ribery adesso passa Ribery adesso passa Ribery 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 Con la finta Apre tutto Mertens No no raga No Non ci credo Però Non è giusto Di Maria Apre tutto Tevez 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 Attenzione Palla dentro Di Maria No di Maria Di Maria No no sto male Raga Attenzione Chesni Ti amo E dai Spazzate Quella cazzarola Di palla Via Sta palla Via Via Sta palla Porca miseria Non ci sto A perdere così Non ci sto Aubameyang Dentro per Ribery Ribery È stanchissimo Ribery ancora Palla dentro Aubameyang Posizione regolare Dentro Mertens Stop rigore E rigore Me l'ha messo giù Nainggolan Finta Nainggolan Mandanovic No raga Non è giusto Riesce a passare Con le finte Ancora Ribery Fallo Fallo Calcio di punizione È finita È finita È finita Signori È finita Sì Cazzo Sì Con una squadra Normalissima Vittoria Meritatissima Abbiamo rischiato Di pareggiarla All'ultimo 23 punti Titolo vinto Signori Abbiamo sbloccato Anche le divise Fighissime Non ci voglio credere Non ci voglio credere Mille Mi piace Come minimo Ragazzi Come minimo Mille Mi piace Queste magliette Sono fighissime Ragazzi Sto malissimo Mi sento la febbre Voi non potete capire Mi raccomando ragazzi Spaccate di mi piace Questo episodio È finita ragazzi Voi non potete immaginare L'ansia che c'ho addosso Stacco qui Perché raga Veramente Non ce la faccio più C'ho il cuore Che mi batte a mille Io spero che il video Vi sia piaciuto Se fosse così Lasciato mi piace Commentate Condividete Passate dalla mia pagina Facebook Instagram Tutto sotto in descrizione Mi raccomando Il video è finito Da The Giant È tutto Ciao Aglio